Musica Allora Romana Savigni, coordinatrice del V-Day 2015 dello spettacolo, quali sono le novità di quest'anno? Dunque, quest'anno sarà il nono anno che i monologhi andranno in scena. Quest'anno abbiamo voluto proporli sotto una nuova forma, sotto la forma del reading. Perché abbiamo pensato al reading? Abbiamo pensato al reading perché si vuole valorizzare quelle che sono le parole di questi testi. Esse, le parole, riteniamo che siano il nettare, che siano il cuore dello spettacolo e quindi meritano la giusta attenzione e la giusta concentrazione. Le nostre donne che leggeranno questi testi sono tutte volontarie, attrici, non attrici, professioniste. Attraverso le loro emozioni, attraverso i loro sentimenti, daranno voce a quella che è stata la voce di altre donne. Donne che hanno raccontato a Eve Ensler, che è l'ideatrice di questi monologhi, hanno raccontato le loro esperienze, il loro vissuto, di ordinaria quotidianità, ma di altrettanto ordinaria discriminazione. Quest'anno ci sarà un valore aggiunto. Oltre alle nostre elettrici volontarie, ci saranno delle personalità che ci sono distinte, sia a livello locale che a livello nazionale, in vari ambiti professionali. Un po' in tutti i campi, dallo sport al giornalismo alla politica. Questo appunto sarà un valore aggiunto perché con la loro partecipazione si vuole dare più valore, rafforzare quello che è l'impegno personale di tutti e di tutte. Ecco perché, oltre a loro, la terza novità è che ci saranno gli uomini. È la prima volta che gli uomini saliranno sul palcoscenico dei vudei, dei monologhi della vagina. Eve Ensler ha scritto un testo bellissimo, Preghiera di un uomo. Noi vogliamo che questo testo venga letto da degli uomini di tutta l'età, dai giovani ai meno giovani. Vuole essere un messaggio positivo. Ogni giorno sentiamo al telegiornale, leggiamo sui giornali che un uomo da qualche parte del mondo ammazza la propria partner o la propria compagna. Ecco, con questa preghiera e con la partecipazione dei nostri uomini si vuole dire che, si vuole lanciare il messaggio che non tutti gli uomini sono così. Non tutti gli uomini ammazzano le proprie donne, ma ci sono anche quelli che, a fianco alle donne, si battono affinché la violenza venga sconfitta. La violenza alle donne è qualsiasi tipo di violenza. La violenza alle donne è qualsiasi tipo di violenza.